In profondità, attenzione, Kinn, palla a vola per lui, Kinn, il pallonetto su Perugia, attenzione, ed è Rete, Rete incredibile! Spazio per i cross, deviato, Lopez contro il sinistro, Rete, incredibile! Ecco lo, Crespo mette giù, Cordova su di lui, Crespo lo fa fuori, Lopez attenzione, tiro, pallotta, Rete, ancora lui! Farinos, prova a luce, la deviazione, ed è Rete, Rete, è autogoltero! Stacovic, Stacovic, pallonetto, ed è Rete, Rete! L'esterno in mezzo per Schoukour, nessuno tocca, incredibile! Ovazione del pubblico, applausi per tutti! Allora, ennesima festa Lazio allo Stadio Olimpico, comincia la nuova stagione, primo trofeo ufficiale, la Supercoppa di Lega!